Gentili telespettatori, buona giornata. A di martedì c'è Roberto Saviano, uno dei nemici giurati di Matteo Salvini, e parla dell'aspetto cialtrone di Salvini con la maglietta di Putin, che è un messaggio inquietante. Allora, naturalmente ogni accadimento politico internazionale è buono per attaccare altri politici. Naturalmente attaccare Matteo Salvini è molto semplice. Essendo un politico Salvini che tutti i giorni dice tutto su tutto, su qualsiasi cosa, ovviamente le sue dichiarazioni ce ne sono a milioni. Mentre un politico come Giorgia Meloni è difficile attaccarla perché le sue dichiarazioni che possono essere controproducenti o utilizzate contro di lei sono molto poche, perché sta attenta a quello che dice. Salvini non sta attento a quello che dice, quello che gli passa per la testa fa e dice. Nessuno dimentica il Salvini col cappellino con scritto il nome del Presidente degli Stati Uniti. Salvini con le sue foto con dietro il santino di Putin. Salvini con la maglietta, con la faccia di Putin. Insomma, robe poi adolescenziali, cose che si prestano proprio a persone come Saviano, che trovano terreno libero, praterie di cose che puoi dire contro Matteo Salvini. Partendo dal presupposto che le magliette, le fotografie di Salvini che inneggia questo o quel politico straniero sono un po' come il quindicenne che mette il poster in camera del cantante che gli piace. Poi naturalmente uno cresce, toglie il poster, gli rimane il cantante che gli piaceva quando era giovane, ma non è più quel fans sfegatato. Mentre Salvini sembra rimasto, sono quello di andare in giro con la maglietta di un politico di un altro Stato, è infantile, adolescenziale, ingenuo, superficiale, sciocco come atteggiamento. E ovviamente questo trova terreno fertile in persone come Roberto Saviano, che parla proprio di Salvini con la sua maglietta. Ospite di Giovanni Florisa di Martedì sulla 7, l'autore di Comorra dice «L'anima autoritaria della destra italiana nasce dal patto Berlusconi-Putin. Vladimir Putin è l'uomo forte e autoritario che non sta dietro ad arcobaleni, LGBT, eccetera», dice Saviano. Non sta dietro ai mille dibattiti della democrazia, in realtà dietro c'è altro. Noi non sappiamo se ci sono dei soldi di Putin dietro la destra, ci sono delle inchieste in corso, anche l'aspetto cialtrone di Salvini con la maglietta di Putin è un messaggio, perché quando la indossa non parliamo di un eroe rivoluzionario, ma di un politico accusato di orribili nefandezze. Salvini nella crisi ucraina sostiene l'esecutivo e le deliberazioni prese da Draghi, ma la terza via scelta dal leader del partito di Via Bellerio non accontenta tutti. Così lascia spazio, dice Saviano, a chi accomuna la Lega la Russia di Putin. La posizione di Salvini non c'entra nulla con la Russia, taglia a corto poi un salviniano. Salvini nel conflitto dice «la via è indicata dal Santo Padre», quindi un Salvini in versione sacerdotale mistica dice «guardiamo alla via del Santo Padre». «Quello che allontana la pace non è utile, bisogna fare tutto quello che serve per la pace», dice il leader della Lega. Bene, allora, analizziamo quello che dice, come sempre, Saviano. L'anima autoritaria della destra italiana nasce dal patto Berlusconi-Putin. Allora, Roberto Saviano, io capisco il tuo fastidio verso Matteo Salvini, lo posso capire proprio umanamente, ti capisco perfettamente, però bisogna essere anche razionali nel fastidio, bisogna circoscrivere il perché di questo fastidio e non andare oltre, ingigantendo le cose. Se io critico Salvini mi fermo alla critica, non ingigantisco, non racconto cose che non stanno né in cielo né in terra. L'anima autoritaria della destra italiana. Caro Saviano, Berlusconi di destra, Berlusconi è un uomo di centro, non ho mai visto in lui atteggiamenti da destra o da estrema destra. È un uomo di centro. Mettete anche centrodestra, ha fondato il centrodestra. Ma l'anima autoritaria di Berlusconi non la vedo, dai. Vabbè, ha fatto l'editto bulgaro, ha cacciato dei giornalisti, vabbè. Insomma, vogliamo metterci a fare le pulci e a vedere se la sinistra è autoritaria? Se io dovessi mettere sulla bilancia centrodestro e centrosinistra e dovessi valutare chi è più autoritario vince senza dubbio il centrosinistra. Chi è in Italia più intollerante, intransigente, autoritario? Non era proprio il PD che diceva che Fratelli d'Italia dovrebbe essere escluso dall'arco incostituzionale perché sono impresentabili, perché sono quelli là. Avete mai sentito dire da quelli che vengono detti, chiamati partiti di destra, dire una cosa del genere sul centrosinistra? Mai. Ecco, questo è un esempio classico di dove io vedo l'autoritarismo, di dove io vedo l'intransigenza. Beh, insomma, che Salvini abbia avuto e abbia un debole per Putin è innegabile. Andava in giro con le magliette, aveva il santino in casa dietro. Se uno ha la foto di Putin è come se io qua avessi la foto di che ne so. Ma dai, insomma, a parte che vi dicevo sono atteggiamenti adolescenziali da quindicenne o forse tredicenne, tredici, quattordicenne. Già quindicenne si comincia già a crescere. Però non possiamo andare oggi a cogliere l'occasione per attaccare Salvini per il suo essere adolescenziale con questi miti suoi. Insomma, poi una destra che abbia come mito la Russia, che se non siamo comunisti lì in Russia, dov'è che siamo comunisti? A parte la Cina. Quindi che la destra abbia il mito del comunismo mi sembra un po' curioso, no? Certo mi sono chiesto anch'io che c'azzecca Berlusconi con Putin. Però lì è al di fuori delle ideologie. Berlusconi che vedeva comunisti dappertutto, il suo grande amico era il capo dei comunisti del mondo. Insomma, è un po' strano, è un po' strano. Però non tanto strano se andate indietro nel tempo. Però quella storia non ve la racconto perché potrebbe essere fraintesa. Chi era un grande amico del fondatore del Partito Comunista Bombacci in Italia? Andate a fare una ricerca. Chi era il più grande amico del fondatore del Partito Comunista Bombacci in Italia? E troverete un qualcosa che direte, ah caspita, ma veramente? Eh sì, veramente. Come si dice, i poli opposti si attraggono e le persone uguali si respingono. Forse è questa, forse è questa quell'ascendente tra Berlusconi Putin e Salvini Putin. Forse è il fascino dell'opposto, dell'ideologia contrapposta. Lì dietro si può fare degli studi, eccetera, eccetera. Però quello che volevo dirvi non ha senso continuare a parlare della maglietta di Putin, cioè della maglietta che indossava Salvini oggi per attaccare la Lega. Saviano, abbiamo altri problemi adesso che guardare la maglietta di Salvini che aveva nel 2017-2019. Capisco che è l'occasione per attaccarlo, però Saviano, passiamo oltre, guardiamo a quello che oggi succede. Lasciamo perdere gli atteggiamenti adolescenziali del capo della Lega, lasciamolo ai suoi elettori. Grazie a tutti e arrivederci.